Un cordiale saluto da me, sono il sindaco di questo comune, San Dorigo della Valle Dolina, sono Sandy Clum, con me ci sono due assessori che vi accompagneranno, anche io starò con voi questa mattinata, iniziamo da qua, pensavamo di iniziare dalla Slovenia, da San Serro, dal castello in monte che lo vedete da qua su circa, però poi per vari motivi bisognava un po' incollegarci anche col comune di Capodistria, i tempi erano un po' strettini, allora abbiamo deciso che partiamo di qua. Allora se vi girate un po' intorno, vedete, ma tutto questo comune pulisce un po' o non pulisce niente? In realtà puliamo, però la mattina dopo è il pomeriggio già di nuovo, vedete qui, questo non sa copelo, vedete? Qua dietro ci sono vestiti, qua c'è un altro pezzo di vestito, vedete? I nylon ci sono lì per terra, lì ci sono già dei sacchi rossi, c'era qualcuno degli ospiti, dei cittadini che passano, mettono nel sacco pelo le cose che lasciano. Allora volevo dirvi che il nostro comune, circa 10 km di confine, confiniamo con la Slovenia direttamente, questa è l'entrata principale della rotta balcanica verso l'Italia. Questo è il tratto più breve dalla Croazia, passando un po' la Slovenia e entrano qui in Italia. Poi la maggior parte di loro proseguono la propria strada verso la Francia, verso gli altri stati d'Europa.